Anch'io volevo esprimere apprezzamento per aver trovato la soluzione che non era facile da trovare, perché su questi temi è difficile avere certezze, ci possono essere principi che ci ispirano, ma poi trovare concretamente una soluzione che contemperi il diritto all'anonimato, ma anche il diritto di un figlio a sapere, era un equilibrio difficile da trovare. Mi pare che il lavoro del relatore e della Commissione nel suo insieme, chi più attivamente e chi meno attivamente, abbia di fatto raggiunto un equilibrio che riteniamo accettabile e quindi anche noi voteremo a favore di questo emendamento, ringraziando lo sforzo del relatore in particolare. Grazie. Ci sono altri che chiedono di intervenire? Agostinelli. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Soltanto per ribadire l'ottimo lavoro che è stato fatto in Commissione per cercare di contemperare i due opposti diritti. Questo emendamento è il risultato di questo sforzo, prendiamo atto e ringraziamo la Commissione dell'ottimo lavoro che si è svolto ieri, nonostante numerose difficoltà. Grazie. Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione l'emendamento 1.300 della Commissione, che ovviamente al parere è favorevole anche del Governo. È aperta la votazione. Grazie. Taricco. Latronico. Ci sono colleghi che non riescono a votare? Non vedo mani alzate. È chiusa la votazione. La Camera approva.